tutti noi conosciamo il giudizio passiamo la nostra vita a giudicare solo che tutti noi abbiamo da una parte una differente visione di cosa sia giudicare spesso ci sentiamo giudicati poi quando lo facciamo noi ci sembra che non lo sia oppure ci sembra giusto giudicare alcuni confondono il giudizio con la discriminazione o col discernimento e soprattutto non ci accorgiamo ancora una volta dell'azione dell'oscura signora quanto più siamo nel giudizio quanto più sotto 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 la brace sta covando la paura c'è una qualche paura che sostiene produce il nostro giudizio giudichiamo gli altri perché abbiamo paura di essere a nostra volta giudicati di sentirci fuori posto allora mettiamo gli altri fuori posto di sentirci insicuri e allora proiettiamo sull'altro in sicurezza di essere sbagliati di avere torto il giudizio è qualche cosa che noi costruiamo sopra i fatti se noi ci rendessimo conto che di fronte a un fatto un evento qualsiasi stesso sia anche il nostro malessere la nostra gioia la nostra tristezza un problema grave nella nostra vita qual è un fatto ma sopra noi ci mettiamo i nostri giudizi a ecco allora vuol dire che non valgo niente la vuol dire che il mondo è ce la con me allora vuol dire che gli altri sono indegni allora vuol dire che io non sono di questo mondo e così via ma questi giudizi tutti nascono dall'oscura signora della paura se noi non ci accorgiamo che sotto alla fin fine c'è una paura di prenderci la responsabilità di chi siamo e di come siamo non riusciremo ad uscire dal giudizio e soprattutto continueremo a giustificare i nostri giudizi considerandoli delle valutazioni delle opinioni e non ci accorgiamo che siamo immersi sopraffatti dal giudizio non riusciamo a comprendere quanto sia importante osservare i nostri giudizi i nostri giudizi i nostri giudizi possono essere visti i nostri pensieri che sono lo strumento con i quali noi realizziamo i nostri giudizi possono essere visti io posso osservare i miei giudizi io posso osservare le mie credenze io posso osservare i miei dogmi io posso osservare i miei valori morali osservandoli io posso purificarli dalla paura che li sostiene non mi aggrappo perché qualche cosa ha valore se ha valore non c'è bisogno che io mi aggrappi se sono veri non hanno bisogno di essere tenuti non c'è bisogno di aggrapparsi e allora se io imparo ad osservare i miei giudizi e lasciarli andare mi accorgo che la fiducia bussa la mia porta mi accorgo della medicina della fiducia che smaschera la paura che ci sta sotto ad ogni giudizio per cui attenzione riconosci cosa vuol dire giudicare riconosce la differenza tra osservare e giudicare e quando riconosci questa differenza vedrai che ci sono proprio due mondi il mondo del giudizio delle di quello che tu credi di essere di quello che credi che il mondo sia è un mondo più chiaro con occhi più chiari un mondo più libero dalle tue proiezioni dalle tue identificazioni dalla tua paura soprattutto e ti sembrerà un mondo più bello più degno di essere vissuto osservare anziché giudicare o meglio osservare i giudizi riconoscerli osservarli